Motogp Misano Motogp Misano, 10 giorni di eventi a tutto gas Misano Motogp, The Readers Land Experience 2016. Misano Motogp, The Readers Land Experience 2016. Rimini, 17 agosto 2017 Gli eventi nell'evento. Sono 25 quelli che compongono The Readers Land Experience 2017, il palinsesto che accompagnerà il Gran Premio Tribble Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. La Motogp sbarcherà in Romagna nel fine settimana dell'8-10 settembre, ma gli appuntamenti collaterali avranno inizio già all'1. Il cartellone, alimentato dalle amministrazioni comunali romagnole e dal titano, si fa ogni anno sempre più ricco e interessante. Nel 2016 furono 285 mila i partecipanti, per l'edizione 2017 si punta a superare quota 300 mila. Numeri che hanno anche un peso economico, visto che, secondo un'indagine tra dei Mark Sigma del 2016, ogni euro investito nell'organizzazione del Gran Premio genera 7,1 euro di indotto sul territorio, per una cifra che quest'anno dovrebbe avvicinarsi ai 65 milioni. D'altra parte anche la regione Emilia-Romagna ha deciso di scommettere sulla Motor Valley per farne un prodotto turistico. E la gara di Misano è un gran bel biglietto da visita. I 158 mila spettatori dell'ultima edizione, record storico e ottavo miglior risultato tra i 18 appuntamenti del Moto Mondiale, parlano chiaro. Non a caso tutti gli spazi commerciali disponibili sono esauriti da mesi. I 158 mila spettatori dell'ultima.